guardate lì che si diverte in questa giornata splendida 24 dicembre fantastica guardate qui lo vuoi il bastone Kira? lo vuoi? se lo vuoi puoi andarla a prendere pronta? via corri Kira brava Kira ti sei bagnata tutta sei pronta? sei pronta? sei pronta? mi piace il bastone? è bello il bastone schiaffo il Kira bravissima bravissima Kira